Il VED lo fanno tantissimi sportivi perché si sa l'importanza di questa cosa e anche noi siamo contenti di poter partecipare e essere qui oggi. È molto importante cercare anche nel mondo dello sport giovani che hanno intenzioni di donare il sangue. D'altronde chi pratica sport ha stili di vita sani e quindi è il binomio perfetto per diventare donatore. Grazie.